Salve a tutti e bentornati a parlare questa volta di Medioevo e non possiamo parlare in questo canale storico di Medioevo senza parlare di Francesco di Assisi, sarebbe un delitto. Infatti il vero delitto culturale è ignorare che il Medioevo, come dire, prende tanta della sua grandezza proprio dalla nascita e dall'esistenza dei Santi. I più grandi Santi, se si potesse fare una classifica, sono nati nel Medioevo. Quindi i Santi non sono l'eccezione di un Medioevo scuro, buio, negatore delle libertà culturali, ma invece sono proprio una delle più compiute caratterizzazioni di questa età di mezzo. Mi sono chiesto, può servire una conversazione storica su San Francesco? Sì, mi sono risposto, non sarà sicuramente oggetto di interrogazione, nessuno vi interrogerà, ragazzi, su Francesco, però accrescerà la vostra cultura, soprattutto a quelli di voi che sono appassionati alla verità, sia ragazzi che adulti. E credo che una conversazione su Francesco di Assisi potrebbe togliere tante tenebre che non sono attenti le tenebre della non conoscenza, perché di Francesco sappiamo tutto, abbiamo una ricchezza di fonti, le fonti francescane che ci permettono di conoscerlo molto bene, ma sono le tenebre della falsità, del pressapochismo, della cialtroneria culturale. Diciamoci subito, per cominciare a dissiparle queste terme, chi non era Francesco di Assisi? Era una persona, un uomo che aveva fatto la scelta della povertà, ma non era assolutamente ossessionato dalla povertà materiale, dalla povertà, intendo dire, dei mezzi e dei beni. Non ha mai esortato i poveri alla rivolta contro i ricchi, era molto più preoccupato piuttosto della povertà spirituale. Infatti, in uno dei documenti, le poche cose che lui ha scritto, questo che cito si chiama la prima lettera ai custodi, i custodi sono i responsabili dei conventi francescani, esorta per esempio a usare calici corporali, ornamenti dell'altare molto preziosi, perché su questo Francesco non ammetteva eccezioni. La messa andava celebrata non solo bene, ma con suppellettili preziose. Non era certo, ecco la seconda cosa che non era Francesco, una personalità tiepida e buonista. Era molto buono, perché era un santo, ma era anche molto severo. Pensate che nella prima vita di Tommaso da Celano, probabilmente, dico probabilmente la prima sua biografia ufficiale, si dice che a un certo punto abbia esortato il suo vicario, Pietro Cattani, che poi diventò anche generale dell'ordine, a punire severamente un frate e le sue parole letteralmente sono, se non si pente, consegnano al pugilatore. Il pugilatore era Giovanni da Firenze, che era un frate dell'ultimo ora, ha chiamato così il pugilatore per la sua stazza molto grossa. La terza cosa che Francesco non era, non era il patrono dell'ecologia. Non so cosa avrebbe detto oggi di Greta Thunberg. La sua concezione della natura non era quella dell'ecologia moderna, era una concezione sapienziale. Lui rispettava la natura perché la natura è un dono di Dio. Non avrebbe mai usato la parola ambiente, ma sempre ha usato la parola creazione. Non ha mai considerato la natura un idolo da adorare o al quale addirittura sacrificare la civiltà umana, come se oggi il problema, o meglio per risolvere il problema ecologico dovessimo valorizzare la materia naturale e diminuire le nascite. Non era per niente un animalista, non era per nulla un vegetariano. Rispettava gli animali come immagini di virtù morale, però a Pasqua mangiava l'agnello, come tutti. Vale la pena di dire che le insulse bugie che vengono dette sul suo incontro con la religione islamica gridano veramente vendetta al cospetto di Dio. La verità è tutt'altra rispetto a quella che spesso ascoltate. Quando nel 1219 Francesco incontrò a Damietta, l'attuale Damietta in Egitto, il sultano Malik al-Kamil, anziché tessere l'elogio del dialogo e della pace religiosa come oggi si fa, gli disse esattamente questo, cioè gli disse di ripudiare l'islamismo e di convertirsi a Gesù Salvatore. Pensate che questo ci è riportato in una fonte preziosissima e unica ai ricordi di frate Illuminato dell'Arce, che fu accanto a Francesco in questo viaggio che Francesco interprese in Terra Santa. Illuminato dice proprio questo, mette a Francesco in bocca queste parole. Proprio per questo disse Francesco al sultano, i cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le vostre terre e li combattono perché voi bestemmiate il nome di Cristo. Illuminato ci dice che Francesco stava citando Matteo, capitolo 5 del Vangelo di Matteo, 5,29, quella parte che dice se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te, è meglio che perisca un solo organo del tuo corpo piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Gehenna. Per conoscere Francesco occorre leggere le fonti francescane, un bellissimo volume che gli appassionati di Medioevo tutti posseggono, ce n'è anche una parte più piccola che sono gli scritti spirituali di Francesco, ma nelle fonti francescane è contenuto tutto quello che storicamente è una fonte di Francesco o su Francesco. Soprattutto bisogna leggere le due vite di Tommaso D'Acelano, la leggenda Triunzo Sciorum, cioè il racconto dei tre compagni, la leggenda Maior di Bonaventura di Bagnoreggio, ne ho citate solo alcune. Chi era Francesco allora? Francesco nacque nel 1181 barra 1182, le fonti lo chiamano sin dall'inizio alter Christus, un altro Gesù, un altro Cristo, già per la vicenda della sua nascita nella stalla, sembra che la madre, non sappiamo quanto storicamente sia vera questo, avesse difficoltà a farlo nascere e allora l'ostetrica chiese alle serve di portarlo in una piccola stalla che la sua famiglia ricca aveva, dove poi Francesco nasce e oggi si chiama, la potete visitare ad Assisi, la plateola Santi Francisci Parvuli. Il suo più grande dramma da ragazzo, da giovane, fu il rapporto col padre Pietro di Bernardone. La vita di Francesco si può dividere sostanzialmente in due tronconi, durò 44 anni e divisibile in due, prima e dopo la conversione. Il rapporto col padre Pietro di Bernardone fu un rapporto terribile, temperato da quello più dolce, più sereno, con la madre, probabilmente di origine francese Madame Picard. Una terza cosa che dicono le fonti sul Francesco, nobilis erat moribus, cioè era un ragazzo del suo tempo, di nobili costumi e quindi tutti i ragazzi giovani della società per bene, della borghesia nascente, comunale del tempo. Come tutti i ragazzi, Francesco partecipò alle battaglie con la sua sontuosa armatura, prima con Perugia, nella quale fu sconfitto, Assisi fu sconfitta, poi si diresse in Puglia, ma a Spoleto ebbe i primi segni di conversione. Di conversione non dall'ateismo alla fede, ma di conversione all'interno della sua fede. Poi c'è da parlare della conversione, che fu un evento complesso, non fu certo la stessa di San Paolo a Damasco. Francesco attese molto per capire, ebbe molti segni seminati da Dio nella sua esistenza, per esempio l'incontro con i lebrosi, forse mediato da Donna Chiara di Assisi, quando lui scrisse, incontrando e baciando i lebrosi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. Poi Francesco si mise l'abito del penitente, un abito di juta, di tela grezza, molto doloroso, fra l'altro. Francesco non fu mai sacerdote, cioè non fu mai ordinato in sacris, però sapeva che la Chiesa proteggeva i penitenti, purché non fossero eretici. Poi ci fu l'episodio in cui Francesco vide il crocifisso che gli parlava a San Damiano e gli disse il crocifisso a Francesco va, ripara la mia casa che è in rovina. Lui la interpretò letteralmente, anche se solo poi un sogno del Papa Innocenzo III, dipinto da Giotto, gli acclarò cosa realmente Dio volesse da lui, cioè che egli riparasse non la Chiesa di San Damiano, ma l'intera Chiesa. Continuiamo alla prossima, arrivederci.